Non è uscita, secondo il secondo assistente, allora occhio a Tunkara, in area di rigore, Tunkara! Porta avanti la Viterbese, Mamadou Tunkara, al cinquantesimo. De Falco, dentro morbido, la sponda e la rete! La Viterbese in vantaggio, ancora una volta! Tunkara imbambola totalmente la difesa del Bari, in questa circostanza la perde e Tunkara si avvia solo contro il portiere e la mette dentro! Punizione durissima per il Bari, su questa palla persa, la doppietta di Mamadou Tunkara! L'arrore del Catanzaro che si addormenta, parte Enrico, Enrico, prova a puntare, passa Enrico, occhio al sinistro, Enrico! 2-0 Viterbese, al minuto 33, Enrico, micidiale, in ripartenza, questa Viterbese!